È normale che nella prima parte di stagione ho avuto problemi, sono stato fuori quasi tutta la prima parte di stagione, quindi non la posso giudicare. Poi credo di essere rientrato bene, io mi aspetto sempre tanto da me, quindi non sono mai soddisfatto pienamente. Però credo di essere entrato bene, comunque non ero così sicuro di stare subito bene dopo l'intervento, invece sono riuscito col lavoro a recuperare in fretta e a fare anche delle buone prestazioni. Dopo la squalifica non ho giocato solo più una titolare, quindi io sono sempre uguale, lavoro sempre ogni giorno al massimo. Magari prima ho avuto più continuità a livello di titolarità e dopo invece la squalifica non ho giocato solo più una e le altre sono entrato. Quindi non lo so, io non mi sembra, anzi a livello mentale mi sembra di essere sempre stato sul pezzo e lo sono ogni giorno, quindi non credo sia cambiato qualcosa. Ho dei compagni forti e quindi il mister fa le scelte. Io cerco di metterlo in difficoltà durante la settimana, però sappiamo bene che abbiamo un grande obiettivo di squadra, quindi che giochi io o che giochi un altro non importa. L'importante appunto è che continuiamo così. Una partita come sempre è molto difficile perché appunto siamo agli sgoccioli, siamo a fine stagione e come ho detto prima come con l'Olbe anche loro hanno degli obiettivi che devono cercare di raggiungere proprio come noi e quindi si lotterà nuovamente su ogni pallone per cercare di far punti. No, assolutamente ora bisogna prima raggiungere il nostro obiettivo reale che è la salvezza e raggiungerlo il prima possibile, anche perché appunto manca poco, mancano quattro partite, raggiungerlo il prima possibile in queste, appunto se riusciamo già dentro due partite sarebbe perfetto.